Form, form, super form, una mostra dedicata al grande pioniere tedesco Thomas Beierle, una mostra che parla di ripetizione. Dagli anni 60 ad oggi Thomas Beierle ha guardato a tutti i processi della società come connessi, dall'economia, alla spiritualità, al modo in cui le merci si muovono nel mondo, alla fede, al consumismo fino al sesso. Tutto è un processo che si continua a ripetere. Questa è una mostra che immerge nelle superforme di Thomas Beierle con le quali ha anticipato il linguaggio digitale del pixel. Siamo al Lingotto, l'ex fabbrica di automobili Fiat, un luogo particolarmente simbolico per questa mostra perché la fabbrica Fiat già dagli anni 70 ha ispirato Thomas Beierle, ma proprio perché su questi immaginari, dalla catena di montaggio, al nastro trasportatore, all'automobile e alla strada, sono basate poi tutte le dinamiche che lui connette nella sua visione della società.